ed eccoci arrivati con il nuovo appuntamento del certificato da settimana organizzato da certificati e derivati con l'ausilio del CEDLAB. A distanza di una settimana dalla cerimonia di premiazione degli Italian Certificate Awards non potevamo che dedicare l'appuntamento settimanale con l'analisi del certificato al certificato dell'anno ovvero quella struttura che Marex ha ideato a Natale praticamente del duemilaventidue e che ha un po' inaugurato il filone dei cosiddetti Fixed Cash Collect con Airbag. Proprio a questa struttura ma in particolare ad un certificato di recente emissione abbiamo dedicato quindi l'appuntamento con la nostra analisi del certificato da settimana. Ma andiamo per ordine partiamo innanzitutto dal approfondimento editoriale che potrete trovare sul nostro portale eh su Traderlink e successivamente ripreso su tutti i nostri canali appunto un certificato da medaglia d'oro. Questo perché il certificato in questione che ora andremo a vedere brevemente si è aggiudicato il premio come miglior certificato dell'anno. La l'assegnazione è stata praticamente riconosciuta dal pubblico degli investitori e da una giuria specializzata e si tratta in particolare lo possiamo andare a vedere di un Fixed Cash Collect con Airbag che proprio attraverso l'appuntamento del certificato della settimana eh ha eh visto diciamo la sua presentazione il suo debutto eh proprio così a dicembre del duemilaventidue ovvero dato che fu una novità assoluta sulla panorama dei certificati pensammo appunto di dedicare un'analisi più approfondita a questa struttura capace di proteggere il capitale a scadenza fino a una distanza del settanta per cento e oltre della eh dei sottostanti inclusi all'interno del basket. Eh per quell'epoca eravamo appunto sul finire del duemilaventidue era un qualcosa che sul fronte dei certificati a capitale protetto condizionato praticamente non si era ancora mai vista le barriere si erano arrivate forse anche al trenta per cento quindi capaci di assorbire anche un meno settanta per cento ma su sottostanti decisamente molto volatili tant'è vero che nonostante la profondità di barriera non raramente questi certificati poi hanno raggiunto e superato la barriera vedi ad esempio il recente caso di Farfetch o piuttosto che ancora Nio o eh altri titoli tecnologici americani viceversa per questa emissione a cui stiamo dando spazio ora per riconoscere il merito all'emittente e soprattutto alla caratteristica di questa struttura che tanto è piaciuta al mercato dicevamo i sottostanti di questa emissione all'epoca erano Enel Stellantis e Unicredit che come è possibile vedere dall'emissione hanno realizzato delle variazioni percentuali molto significative per quanto riguarda Unicredit più centodiciassette per cento Stellantis più sessantotto per cento Enel più diciassette e cinquanta certamente ha contribuito il buon andamento del mercato azionario a far sì che questo certificato dalla sua emissione come è possibile vedere praticamente in questo grafico nella linea in rosso non quella tratteggiata in basso che rappresenta praticamente la barriera ma eh quella eh del grafico un pochino più in alto non è mai scesa al di sotto dei mille mille dieci euro praticamente oltre un anno senza mai scendere al di sotto del nominale ripeto è vero che il mercato ha certamente aiutato ma probabilmente sarebbe riuscito ugualmente a rimanere sempre molto sostenuta in virtù del fatto che come già detto la protezione del capitale agisce in questo genere di proposta fino al meno settanta per cento quindi fino a meno settanta per cento da parte del sottostante peggiore del basket all'epoca questo certificato tra l'altro era anche particolarmente generoso perché riusciva a pagare un rendimento dello zero virgola otto al mese che chiaramente è stato finora regolarmente pagato e il certificato andrà in rimborso anticipato praticamente a brevissimo parliamo ora della novità perché la novità è sempre della stessa struttura quindi fixed vuol dire che c'è un flusso di cedole incondizionato che associato ad una durata di cinque anni massima prevista per il prodotto consente praticamente di andare a puntare ad un rendimento minimo dato dalla struttura in caso di protezione del capitale viceversa per quanto riguarda scenari eventualmente molto avversi a garantire un rimborso protetto in questo caso sono sessanta cedole mensili dello zero virgola cinquantotto per cento l'una quindi delle cedole comunque non particolarmente elevate come il prodotto che abbiamo visto in precedenza che addirittura pagava lo zero ottanta ma c'è un motivo che ora andremo a vedere quindi partiamo innanzitutto dalle cedole come già detto zero cinquantotto e quattro su base mensile incondizionate il che vuol dire che per i cinque anni di massima durata se dovesse essere questa la durata a cui la scadenza a cui arriverà il prodotto verranno in ogni caso pagate perché dobbiamo ovviamente preoccuparci della delle cedole perché comunque dicevamo c'è una protezione condizionata quindi queste cedole dello zero cinquantotto al mese potranno rappresentare o il rendimento del prodotto o un cuscinetto da destinare alla protezione del capitale c'è da dire che la barriera di protezione del capitale già di per sé è comunque profonda è al cinquanta per cento e in più terza caratteristica distintiva di questa struttura che balza appunto lo ripeto il premio di certificato dell'anno è la presenza dell'opzione airbag pertanto andando a sommare la profondità di barriera con l'opzione airbag e le cedole fisse come per altro ho già visto in altre occasioni durante quest'anno durante le quali abbiamo presentato prodotti con questa struttura eh praticamente anche in questo caso abbiamo un'analisi di scenario che non è completamente verde ma è praticamente break even cioè protetta fino a circa meno sessantotto per cento infatti nell'eventualità di un meno settanta la perdita sarebbe limitata a poco più di quattro punti percentuali cos'è che rende il certificato capace di pagare comunque un otto per cento anno nonostante le cedole siano dello zero cinquantotto il fatto che è stato emesso sotto la pari ebbene sì la caratteristica che piace certamente al mercato è quella di poter acquistare sotto la pari nel caso specifico il certificato oggi si acquista novecentosessanta euro è evidentemente un sotto la pari fittizio perché il certificato è stato emesso a novecentosessanta euro quindi in realtà è come se fosse a mille a lato pratico però attenzione perché al rimborso alla scadenza comunque verranno rimborsati mille euro e non novecentosessanta pertanto analisi di scenario rendimento annualizzato dell'otto e diciotto per cento con protezione larghissima e break even cioè punto di pareggio dell'investimento tenuto conto delle cedole come già dicevamo al meno sessantotto per cento ma di quali titoli andiamo a vedere settore bancario con si conferma e quello su cui si riescono a costruire le strutture più interessanti più promettenti come rendimento e più protettive quindi certificato adatto per chi eventualmente non ha già la casella dedicata al settore bancario completamente assorbita nel portafoglio o voglia eventualmente sostituire qualcosa che è il guadagno con questa nuova proposta. I titoli quattro titoli del settore bancario due europei due italiani Societe Generale e Deutsche Bank per quanto riguarda il mercato europeo Banco BPM Unicredit più nello specifico per il settore bancario italiano nel caso specifico si nota già la divergenza di performance tra Italia e il resto d'Europa anche sul fronte bancario dove le nostre banche praticamente da Unicredit e intesa San Paolo passando per il banco BPM hanno messo a segno dei numeri eccezionali fermati anche dalle trimestrali un po' meno invece per quanto riguarda Societe Generale che proprio in data odierna ha rilasciato la propria trimestrale e Deutsche Bank che proprio nella giornata di ieri ha subito uno scossone per effetto del nervosismo innescato dal comparto bancario tedesco con una banca che ha mostrato in particolare dei dati non esaltanti ma al momento come è possibile vedere rispetto allo strike iniziale nonostante questa negatività relativa di questi ultimi 24 ore i due titoli europei segnano un leggerissimo meno cinque per cento quindi certificato che probabilmente non è non necessita di altre illustrazioni evidentemente l'analisi di scenario parla da sola quindi rendimento dell'otto e diciotto come dicevamo protezione fino a meno sessantotto per cento a questo punto prima di lasciarvi eh vado a condividere le analisi che tipicamente proponiamo sui sottostanti e quindi nello specifico andiamo a vedere sul terminale quali sono le caratteristiche dei sottostanti e soprattutto uno sguardo al posizionamento delle barriere come di consueto trattandosi di un basket worst off partiamo dalla matrice di correlazione cioè qual è il legame che intercorre tra le quattro azioni di questo basket è possibile vedere come tra Banco BPM e Unicredit la correlazione sia alta a zero settantadue per cento decisamente più moderata invece con gli altri titoli del settore bancario europeo tra l'altro confermato anche dalle performance che abbiamo effettivamente visto già dall'emissione per quanto riguarda le volatilità al momento stiamo assistendo ad un incremento di volatilità proprio sul Deutsche Bank questo è il dato di ieri e con tutta probabilità per quello che riguarda Società General in queste ore continuerà a vedersi una volatilità superiore ai trenta trentacinque punti percentuali viceversa per quanto riguarda il settore bancario italiano con Banco BPM e Unicredit volatilità più moderata al di sotto del trenta per cento questo chiaramente lo ribadiamo aiuta naturalmente a creare protezione all'interno del certificato un ultimo sguardo lo diamo al posizionamento del non della barriera bensì del break even point quindi del punto di pareggio se oggi acquistiamo a novecentosessanta euro dove devono arrivare i quattro titoli per far sì che si possa iniziare a perdere e vado anche a premettere nell'ipotesi di meno settanta per cento quindi superiore al break even la perdita sarebbe di tre quattro punti percentuali quindi assolutamente gestibile per quanto riguarda il titolo Deutsche Bank il livello da raggiungere sarebbe di tre euro e novanta praticamente vediamo come il minimo degli ultimi venticinque anni si è stato fatto il trentuno marzo duemilaventi a cinque euro e novantasette pertanto è un valore che è il quaranta per cento in meno del minimo fatto negli ultimi venticinque anni insomma per quanto riguarda Deutsche Bank vorrebbe dire andare a stravolgere completamente tutto il quadro e innescare un meccanismo ribassista tale da portare a valori che non sono neanche stati mai lontanamente visti dall'azione per quanto riguarda la società generale il discorso è del tutto simile perché vediamo come il break even sia a sette euro e cinquantatré oggi viaggia a ventidue euro e ventitré il minimo degli ultimi venticinque anni è stato fatto sempre nel duemilaventi a undici euro e trentuno barriere break even a sette e cinquantatré anche in questo caso c'è oltre un trentasei per cento di ulteriore distanza dal minimo degli ultimi venticinque anni a quello che sarebbe il break even point quindi sia per Deutsche Bank sia per società generale viene da dire che quei livelli almeno sulla carta sono difficilmente riaggiungibili per quanto riguarda unicredit la situazione invece è un po' diversa complice il rally straordinario praticamente realizzato a partire da ottobre del duemila ventuno eh unicredit oggi avrebbe il suo break even a otto euro e venti praticamente eh esattamente da dove è partito il rally di ottobre ventuno tant'è vero che il minimo in questo caso gli ultimi venticinque anni sempre del duemilaventi è inferiore a questo valore sei euro e quaranta però è evidente che il fatto che sia stato già visto è perché in questo momento l'azione è in uno straordinario eh momento di forma con Orsel che ha completamente stravolto il piano industriale e sappiamo bene quanto unicredit oggi venga praticamente premiata dal mercato con anche dodici miliardi praticamente di in cassa da destinare ad eventualmente ad operazioni di M&A quindi il raggiungimento di area otto e venti sulla carta in questo momento non sembra avere molte chance. Ultima analisi riguarda il banco BPM dove il break even point a un euro e cinquantatre il minimo storico fatto nell'aprile duemilaventi eh a un euro e undici il minimo degli ultimi venticinque anni è a un euro e undici uno e cinquantatre sarebbe comunque superiore ma così come per unicredit anche per il banco BPM bisogna considerare che dal duemilaventuno quotava un euro e ottantuno adesso ne quota cinque quindi è evidente che anche in questo caso bisogna considerare lo straordinario momento di forma del settore bancario italiano. Bene non mi resta altro che a questo punto rimandarvi ad ulteriori approfondimenti sul sulle nostre analisi su quello che il nostro ufficio studi produce quotidianamente attraverso il canale telegram e la chat live dell'unedì mercoledì e venerdì e salutarvi e darvi appuntamento a giovedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti